Io mi metto sempre in checkpoint come al solito Matt e io te stiamo belli attaccati al culo Bullizziamoli ragazzi Lo stesso e via Che fai? Eh che cazzo Matt e rimuo con te In casa, saranno in casa Vabbè sono in casa Vittalo Vittalo Matt aspetta stiamo qua Tempo regge aspetta 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 Rimetto non entrare Fatto supporto Fatto supporto Dai Mario tuo Safra usa un mortaio Usa un mortaio Entriamo in cap dai Entriamo in cap Entriamo in cap Raga sono in casa Non concentriamoci dietro dai In casa Bombarda con mortaio e tutto quanto Morti morti in casa vuota O sono usciti o sono morti Ok Ok Down carrista Stiamo in cap e prendiamola poi usciamo L'unico che sta fuori è Mario Mario stai a destra Ok tutti gli altri in cap, tutti gli altri in cap Ragazzi prendiamola in fretta Ok Ah se ti serve io ho la smoke Ancora una da usare Stanno bombardando Legna Mortaio Eh so one shot pure here Adestra è vuoto in riserva ragazzi eh Mario respawna Mario respawna Mario respawna Siamo in cap Teniamola fino a quando non facciamo punto ragazzi Siamo in cap Raga in cap in cap in cap Teniamola fino a quando non facciamo punto Eh cioè non lo vedo Non si li vede non si li vede Facciamo il punto ragazzi Respauna Sartron respawna Respauna respawna 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 E' veloce Falò venire avanti, falò venire avanti, falò venire avanti Sotto Sotto Se stai lì Se stai lì Se stai lì becca pure mettili di spostare Raga O va avanti o va indietro Eh ma voi vai avanti o va indietro Non stai lì di fianco a me No Matt Matt ti smavo Matt ti smavo Matt ti smavo In casa e in cap in cap Sul legno Vida Matt ragazzi Sotto vida Matt Sul secondo flag State in cap Facciamo il punto ragazzi State in cap e non facciamoci fuggare State in cap State in cap Vedi 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 We are losing objective butter In cap ragazzi in cap Il corre sempre da cannone ragazzi Dai dietro Due dietro Ne abbiamo due dietro Ne abbiamo due dietro In casa In casa In casa Eh ce n'è uno in casa 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 ragazzi In casa Mette Metti in casa Vai in casa subito Arriva il carro Arriva il carro No mette entra mette A destra A destra Ho messo respawn C'è il leader a sinistra A sinistra metto a sinistra C'è solo il carro in cap Vieni metto vieni metto Vieni metto Munizioni metto Putta munizioni Metto putta munizioni Grazie Eh ma mi servono le fumogene metto Non i colpi cazzo Davanti a te sul cannone Sul albero scusa Fatto E' sempre Allora fanno sempre il giro ragazzi C'è il mortaio in cap Ragazzi c'è il mortaio in cap Dietro di me ragazzi Dietro di me su questo muretto No eccomi qua Ragazzi seconda flag Oltre il muretto Dove sono morto io Ce ne sono tanti Matt ce l'hai? Respawn Matt ce l'hai? Respawn Temporeggiate un attimo Fin quando non arriviamo Io e Matt Temporeggiate Temporeggiate un attimo Temporeggiate un attimo Temporeggiate un attimo Fin quando non arriviamo io e Matt Temporeggiate un attimo Temporeggiate un attimo Temporeggiate un attimo C'è un altro No, via principale È entrato in casa Pensavo fosse dentro Bella, bravo Matt Mario, devi stare da destra C'è che di stare in terzo e quarto cap Perché allora passa sempre da lì Non guardiamo mai destra È oltre il muro, non lo vedo Butta una padella addosso Arriva il carro, spottato Arriva il carro Saffron è tuo, Saffron è tuo Arriva il carro Saffron è stato in casa Saffron è stato in casa 342 Eh, è un po' Metto e prendi il respawn Dimmi quando l'hai preso Ce fai respawnare Butta una fumogine Rassami se riesci Vieni, 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 vieni Vabbè dai ragazzi 5-2 Oh concentrati Non facciamoci fare le cazzate Che magari perdiamo Matt mi sei piaciuto Non ti hanno nemmeno mai messo le mine No non l'ha provato Beh non è mai arrivato dietro un parolone Cioè Io cerco di stare sempre sui tetti Quella zona là Magari proviamo a stare Carro e supporto destra E noi tutti gli altri tre Fanti stiamo a sinì No ma lì Lì andiamo Lì andiamo io Mario e Matt Tu e supporto Con Saffron Andate a destra Noi tre stiamo a sinistra In riserva Con la zona lì Terzo quarto cover Sì sì Però nel senso Cerchiamoci di coprire La zona sinistra della mappa Noi Che comunque a destra Essendo più aperta Uno con carro e uno con supporto Comunque I laseri Io mi metto il respawn qua Ho subito in safe Ragazzi Easy Eh me ne vo Eh prima adesso che stiamo in flag Se ne andrà una controllata Medico down Medico down 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 Che mia vita Medico down No 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 Ma va che cagata Che ho fatto Lo shock dietro il muro Ragazzi in egglitch Lo shock nel muro Dell'eglitch Ragazzi Ho fatto una cagata Entra in cap Lo shock Entra in cap Ah si è un 58 di vita Buono Matt arriva Arriva il carro destra Il su legna Carro su legna Carro su legna Carro su legna Ragazzi Facciamo il flag Si Matt No aspetta Uno Due Tre Ora Medico dentro Medico dentro in casa Ragazzi Porto in casa Fatto No L'hai fatto Ok bella Il carro è a destra Lo sento Il carro è a destra Metto Ti guardo lungo la strada Io A sinistra A sinistra In casa c'è gente Mette Stai attento Forse Forse No mi ha fatto Il medico mi ha fatto Il medico ha restato Il supporto in casa Ragazzi sono in due C'è anche il supporto C'è anche il supporto C'è anche il supporto Raga con calma Ma fa l'ultimo punto Con calma Adesso riprendiamo Adesso riprendiamo Facciamo l'ultimo punto Con calma Vieni No spanno Spanno anche a te Vabbè Vieni 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 Mettesi troppo davanti Mettesi troppo davanti Aspetta No Medico su mio cadavere Ragazzi Quarto cover È medico 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 a sinistra Sta flencando Ragazzi No adesso No no Adesso ho schippato No 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 L'ha mai distrutto Dai l'ultimo punto Ragazzi Andiamo avanti Supporto Su cannoni Sì sì Matt 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 fa niente Facciamo l'ultimo Fa niente Facciamo l'ultimo C'è il medico che ci guarda Stai attento Mario Non passare da dire Non passare da dire Non passare da dire Ti ho fatto supporto Noo Leader Leader in land glitch Leader in hand glitch One shot Ragazzi A destra Bravo Bravo H Bravo Ah Leader supporto Sono down Raga Leader Mettereci ad entrare Ancora Dai dai Prendiamola Dai 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 Ti smago Tutti in cap Tutti in cap Tutti in cap No Pensa ai Fanti Se riesci In casa In casa In casa No c'è gente In casa C'è gente In casa L'ho vista entrare Sta a prenderci Bombardare la casa Raga Ok Dai entrate Mi pusciano Mi pusciano Mi pusciano No metà vita Lo shock Su cannoni Ragazzi No Cado Non andrà giù Mettereci a rientrare Mettere Ma Com'è che fa rientrare Mettere Ragazzi Vabbè Io vi aspetto L'ho visto E' sotto E' sotto Questa Cosa Ma è sotto Di me Avrei salito Puttana Ma ti pare Che non c'è Ma fare l'ultimo Punto Perché Mett È crashato Cristo Tutti a sinistra Facciamo Non andare giù Adesso Stiamo tutti a sinistra Ragazzi Siamo ricominciati Ci abbiamo Mettere Stiamo tutti a sinistra Vicini Ragazzi Stiamo tutti a sinistra Vicini Mario Vieni Tra tre Due Uno Ragazzi 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 Non dobbiamo cercare Fare il tank L'ultimo punto Stiamo in cap Facciamo i fanti Ragazzi Ok Stiamo in cap Facciamo l'ultimo punto Stiamo in cap Facciamo l'ultimo punto Mario Spawna Facciamo l'ultimo punto E stiamo in cap Ragazzi C'è solo leader in cap Leader e shock Adesso Tutti dentro in cap Dai Tutti dentro in cap Usate le fumogene Spam fumogene Stiamo in cap Punto e basta Stiamo in cap Fatto C'è il carro in cap Saffron Respauna Fa niente Fa niente Fa niente Lascialo là Lascialo là Pensiamo alla cap Lascialo là C'è il leader Ragazzi C'è il leader Che da respawn a sinistra Su fiume Fermi Fermi L'ultimo punto Fermi in cap Fermi in cap Respaunate 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 Ragazzi Ragazzi Respaunate 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 Oddio Ma che sofferenza Il medico Que lo fa No va che Far ride 9 Paroline C'è Nel senso L'ave l'ha fatto Solamente una volta Ride Sì Ma fidate Che farlo H24 Contro i team Forti C'è E' una cosa Ui ciao Use Farlo per la prima Volta Adesso Com'è che faccio Adesso a confermare Il match Qui così Bracket Com'è che faccio Confermare Così Il round Come cazzo Si fa Ragazzi Abbiamo vinto Ragazzi 8 A Ah The victory Is mine Confim The result H senti Marioni H non risponde Ok E' la prima Andata Ah su play Devo andare Ok ci siamo Siete voi Che avevate detto Ah questi qua Se la cavano Usaci Sei in chat E' la prima 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 Allora Allora Fragivu e feib Fragivu e feib Ciao Aspettiamo al prossimo Avversario E' la prima E' la prima GG 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 Ah i vertex Comunque ragazzi Comunque ragazzi Sfigatissimi Ogni volta C'è Allucinante Ma C'è Vanno sempre fuori All'inizio Poverini Ok adesso C'è la Divelazione Che hanno vinto Loro Contro Divelazione Che Non ho capito Ah no Ah Gigi Stai parlando Da quella Storia Lì Che Voglio GG Perchè mi ha scritto GG alle V, alle... Perchè? Non hanno ancora finito Chi è Serdusky? Chi è Serdusky ragazzi? Ok No perchè mi ha messo il follow su Twitch e sto parlando con Cryfax vedo Dove lo leggi? Oh my god GG Stranger Swing Candy No al death name ha Ha visto li ha vinto gli Strangers? Aim Rage Quinting A parte che scrive at the beginning Cash costa per scrivere No cash costa per scrivere Apex One No ho scritto Apex One Ho scritto Cash ragazzi Ma è il secondo team di Fab Se non sbaglio ragazzi Ti date un'occhiata Competitors Perché ve lo dico Te lo dico eh Stranger Swing Candy Ah i Stranger Eh raga No ma raga 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 Non sono dall'altra parte Ragazzi i Fab Sì ma noi abbiamo i Fab Ma Fab e Cantauro Tra i fate quelli che siete voi Sono dall'altra parte Sono la Stranger Weekndy I Fab che incontriamo noi sono Naptic, Rowan B-Boy, Shantik, Miran e basta E Zenith Sì Stranger Weekndy è l'altra squadra dei Cantauro, Phantom e quelli lì Pensavo dicessi Gianni Fiorino Pax Ma donatemi in bagno raga Grazie a tutti A presto Allora Qua aggiorniamo un pochino le situations Niente Ancora niente No vabbè Ma a parte che lo spareggio deve arrivare a 3 Quindi non è che Cioè anche se la ripeti Dove essere già finito Sì Eh E' un terreno di calcio dei poveri Ma slings abbiamo già affrontato ragazzi I GV c'hanno Prototype Azog Vai a leggere Porca troia Slings Slings Tita Tommy Tita Tommy Shadings E Prototype Infatti i Prototype non hanno partecipato oggi Sì ma ci fosse un team che avesse Che avesse tenuto la stessa squadra Oltre a noi L'Existence E gli Apex Cazzo Video chiamami Matt la tua connexion Come procede C'è Matt Matt Vai sui competitors Ed arrivi di tutto Sono i Fab Sono i Fab Ma che poi non c'ha senso Perché sennò devi ricominciare Con i punti da zero Quindi beh Grazie a tutti No no Il Big Ben c'è Segnato Big Ben da qualche parte Se non sbaglio No il leader Il mortaio è Il mortaio è Bulldog Che è negative Il mortaio è negative No Ivens L'abbiamo giocata benissimo Quando abbiamo fatto Che poi l'abbiamo persa Il terzo e quarto posto Sì Ma l'abbiamo giocata benissimo Allora e rendita va dopo taba abbonati con twitch prime dammi i tuoi saldi dai 50 minuti non hanno ancora finito una mappa ma sia dalla nostra parte che dalla loro perché existent vertex e boh ma ancora finito ma eh ho capito ma non ha confermato niente ok ma vedi che nessuno ha confermato su g4g e andiamo direttamente in finale a pesca tra le v su discord non dicono niente eh ma c'è boh bounce scrivevo e dai ragazzi dove siete oh existence apex ragazzi semifinale la finale è anticipata la finale è anticipata eh a me non compaiono sti finocchi qua che abbiamo contro eh 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 buh 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 mi compare nulla dai 50 minuti per fare una partita o che hanno problemi con il server che non hanno fatto la lobby ma cazzo 50 minuti per fare una partita noi abbiamo fatto 20 minuti fa eh no finché non finisci ma a parte voglio dire cioè o per le o per le kill no capi ma c'è o per le kill o per i punti cioè figa prima poi la finisce in 50 minuti in una cazzo di partita su ombra non è no ma nel senso dovrebbero aver già finito cazzo anche se dovessero aver fatto i supplementari cazzo cioè mi sembra strano che non abbiano ancora finito nemmeno i supplementari capito? ragazzi che è il capo dei gv dei fab? li taggo un attimo su disco per sapere cosa stanno facendo allora fab scientific e gv slim bands allora allora Grazie a tutti. 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 Oh, l'ha fatto. Akabash, kamakama, onyx, tossico, akabash, kamakama, onyx, metti. E chiamate, che c'è in party? Ci siamo tutti? Ehm, vai tu, vai tu in party. Vai, 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 dimmi cosa ti dicono. Ok, ok, ragazzi. Ok, ragazzi. Yeah, who made the lobby? Yeah, who made the lobby? Yeah, who made the lobby? One, that's one. Uno, two, three, two, three, four, five. ehm... also... better wait... there's a problem... ok... ehm... Shad is playing... yes... ok... I'll make the lobby... I don't remember... I... Ah... no... Shot? No... Oddio... Ok... All'Oxana... no... Regolas... no... Vulcan... 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 Jabushka... no... Blade... no... Puttana dove cazzo sono... Fabe Shintik... no... Shot... no... Solo... Eh... non mi compaiono... Eh... sei bugata la lobby... aspetta... Mi sei bugata la lobby... Io ce l'ho fra gli amici questi qui... Blade... Slim and Doll... Sì... ok... e perchè non mi comparivano? Create... Agence... Ho sbagliato... Perfetto... Allora... ehm... King of Vale... Europa... Blind Draft... Ok... Ora mi compaiono... perfetto... Allora... Akabash... Marioni... Slinx... Titatommi... Shady... Ehm... Che è che manca? Slim and... Sì... E... No... ho sbagliato... No... ho dimenticato qualcuno sicuramente... No... ho dimenticato qualcuno sicuramente... Aspetta... Slinx... è entrato... Ah... Prototype puzzle... Quello qui... Ok... Ci siamo... Che è che manca? Dei nostri... Matt... Che forse l'ho dimenticato... Allora... De loro manca... Azok... Che è entrato... Matt... E... Allora... Guarda... L'invito... Matt... Ok... Manca solo lui... Aspettiamo... Matt... E... Ci siamo... A posto... Ok... Eccolo qui... Eccolo qui... A posto... Ok... Ci siamo... Ok... Ecco qui... Allora... Ragazzi... 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 Che se ne fiega come giocano loro... Cerchiamo di capire come sporci noi... Allora... A Cava Top... A Cava Top... Giusto... Quindi state Quindi state voi tre sopra E noi stiamo in cap ma dal vostro lato No no Saffron sta in cap Perché Saffron vai a destra Ah no Saffron è nel supporto Ma se invece stessimo Voi tre Sulla sinistra sulla montagna E io e Matt stiamo in cap ma dal vostro lato Raga in cap la stiamo perdendo Uno sta flencando E' già in top Lo vedo Il tato 16 Il tato 16 la T Il tato 16 la T ragazzi In cap mette Ce n'è uno in cap ragazzi Ce n'è uno in cap Andiamo a destra Andiamo a destra Andiamo a destra Il leader sta Messo gli respawn Ma le spawnate Però ragazzi non fatemi perdere tempo per favore Ti sta salendo Ti sta salendo Ti sta salendo a destra H H H a destra Saffron usa mortaio Usa mortaio veloce 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 Ti smalvo ti smalvo Ti smalvo vai tranquillo Menti con sinistra Bello Brava mette Raga Stiamo Conta me a T2 A T2 leader ragazzi Mentre ne due attento Così Sì non c'ha senso Mentre deve stare C'è sapere Deve stare sopra Mario spawn Veloce Quanto ti manca Stiamo in cap ragazzi Stiamo Ci stiamo coltuttando sul carro E la cap la lasciamo sempre lì Siamo dei minchioni ragazzi Venite in cap Mario vieni in cap Entra Sì ma entra in cap Stanno facendo punti loro Mentre che tu spari da lì Entra in cap Raga In cap Ragazzi In cap Porca troia Vuole il nostro spawn L'avete fatto? Il medico è della parte di trincea Sì sì Mentre lo vedi? Fatto l'ultimo Rai lì Meccanico Uno che va a destra Suci presto Ragazzi Che si mette là No mette tu Stai dietro Mentre Tu sei il medico Mentre tu sei il medico Stai dietro Ti capro io Destra Tu ci presto C'è qualcuno Che non so chi sia Te l'ho aiutato Mario Te l'ho aiutato Quello Che C'è qualcosa vai 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 oh wipe continuiamo così dai si si continuiamo così grazie caro il carro dov'è mario sposta a sinistra così fa il carro aspettalo sotto il muretto qua appena i 10 mario tutti a destra ragazzi tutti a destra c'è il carro a destra c'è il carro a destra shock fatto shock fatto c'è il carro a destra mario ultimo cerchio non facciamo la cazzata ultimo cerchio non facciamo la cazzata ragazzi per ultimo cerchio è zitto matt è zitto matt 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 sta parlando lo senti h h ah è uscito boh è vangato mario comunque prima io non ce l'ho con te però se lo prendono la cap entra almeno contendiamola blocchiamogliela capito e ok ma tu vieni con me ma tu vieni con me a sinistra e poi li ammazziamo quando passano a destra e ma 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 intanto loro in tempo che tu sei entrato hanno fatto 3 punti ok e loro shock down shock down non loro non c'hanno o c'hanno la t che non mi ricordo ah si scena ma loro c'hanno la t mentre stiamo attaccati a te te l'ho fatto te l'ho fatto sinistra e qua sinistra o destra il melico è a destra il melico è a destra saffrono attento raga su mio cadavere lo shock mette in primo prima vedetta mette mette a vita no mette a vita il loro medico mette a vita no medico down aspetta che li metto venite hai la hai dietro la t a sinistra hai one shot hai one shot la t a sinistra e nel porca puttana fatto 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 in cap in cap ragazzi in cap sennò ce ne sei loro sono già 6 punti ragazzi in cap a destra a destra il mio cadavere e nelle scalette nelle scalette nelle scalette mette nelle scalette nelle scalette mette prendi il mio respawn vai 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 c'è ancora no c'è ancora il medico c'è ancora medico sulle scalette va dietro a destra va dietro a destra al medico è top la t saffron è top la t fate respawnare mette ragazzi ma te l'ho detto che mi restava eh per forza sono mai entrati in cap noi non siamo siamo entrati in cap non siamo mai entrati in cap ragazzi sempre attorno siamo rimasti e allora ho fatto punto ce l'hai carro ok ragazzi dobbiamo entrare in cap non è come ombra che ti fai le kill dobbiamo entrare in cap ok il carro ci ha sprecato 4 colpi eh ti arriva ti arriva lo shock o lo shock o la t non lo so che sia lo shock mi fanno, mi fanno, mi fanno mi fanno, mi fanno, mi fanno Hanno rifatto il respawn Liberate la cap Saffron se c'hai il mortaio Usalo in cap il mortaio Facciamo fuori prima i fanti in cap Raga facciamo fuori prima i fanti in cap Perché se facciamo i fanti in cap Rimane il carro da solo non fa nulla Te l'ho spottato la tiaga No E' il medico a destra L'ho visto dopo Ho scritto dopo Da arriva la ti l'ho visto L'ho visto Down la ti Down la ti Da abbiamo il medico a destra Il medico a destra va arriva ragazzi Sotto di me Medico è leader Cos'è Quarto top Sotto quarto top ragazzi Matt dimmi se ce la fai Altrimenti respawno Ero largo a sinistra Ma hanno fatto il medico E il leader Dobbiamo andare in cap No vabbè guarda Sponchilano Niente Sponchilano Ce l'avete a destra Vi podate il loro leader Nella roccia a destra Nella roccia a destra Abbiamo volato il leader Davanti ad H Dobbiamo pensare ai fanti ragazzi Cioè il carro rimane là Non fa niente il carro Si no Ok all'inizio Poi non siamo più entrati Nel senso No nel senso Ho capito No nel senso All'inizio All'inizio Quando entriamo in cap Anche col supporto Saffron Dovresti sparare ai fanti Non al carro Così una volta che devi Dobbire la cap Per sponchirli E sono d'accordo Sono d'accordo Ma poi quando usi Eh lo so Però se allo start Però allo start Dobbiamo fare i fanti Allo start Dobbiamo fare i fanti Se riusciamo Il tank lo lasciamo dopo Ho capito Ma ci sto dicendo All'inizio Cerchiamo di concentrarci Sui fanti Perché una volta Che fai fuori I quattro fanti Il carro Non è che ti pusha La cap E te la conquista Appunto Facciamo i fanti E te la conquista Metto non stare con il lago Mi fai finto Metto non stare con il lago No no Sinistra Vieni a sinistra Il carro Vieni a sinistra Spawna 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 Eh scelati sopra Non andar lì 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 No Guarda il medico Vieni Vieni Loro fanno i fanti Aspettateci Andiamo tutti assieme Aspettateci Che andiamo tutti assieme E vabbè A destra Il loro shock One shot Metto il resto Ce la fai Metto Andiamo Andiamo No no Ragazzi Cazzo è fin Andiamo a destra Andiamo a destra Non siamo da soli Ragazzi Stiamo vicini Mette C'è uno sull'albero Trincese C'è uno Top a destra Andiamo Entriamo E andiamo a sinistra Stai vivo No non pushare Saffron Non pushare C'è solo Riding cap C'è solo Riding cap Vieni a destra Saffron Vai Vieni Vieni State così State così Spawn Metto In alto In alto a destra Ragazzi Sono tre Sono tre A destra C'è anche La T La T dietro a destra La T dietro a destra In secondo cover A destra Mette L'hai fatto In secondo cover C'è La Fai La Fai Vieni a destra Ma usa Immortai Mette 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 Vai dentro Mette resta Vieni Vai vai Mette 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 Vieni Vieni Sì Buonanotte Però Vabbè Stein cap Niente Stein cap Stein cap Stein cap Saffron Usa Mortaio Mette L'ho Carre Su Entri 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 In c'è Leader No Tridato Possiamo ancora Prenderla Possiamo ancora Prenderla Dai Andiamo unico down No no Raga poi stiamo ancora a recuperare Dai due flag E io Ma io cosa ti ho detto Io ti ho detto all'inizio dobbiamo fare i fanti Raga chi se ne frega Facciamo questa flag Chi se ne frega Raga facciamo questa flag Chi se ne frega Dai cazzo Facciamo questa flag Loro fanno quello sponchino iniziale E poi la flag è l'uno E' molto semplice Ho capito ma io cosa avevo detto prima Facciamo i fanti all'inizio A sinistra ce n'è uno Ce n'è una sinistra sulle rocce Ce n'è una sinistra sulle rocce Fatto 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 No puttana Mettere spawna Su scaletta Su scaletta Mettere spawna Restami che sono sopra Su scaletta Stai attento Sulle scalette Mettere Carro E' qui il carro C'è il medico 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 davanti a te C'è il medico davanti a te Marioni davanti a te Esorale Guarda che hanno fatto 4 punti Con calma Stiamo assieme Stiamo assieme Con killa In porto cover Qualcuno Che penso sia la T Leader 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 Son mio cadavere Leader In safe Mett Ce la fai Mett 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 Adesso devo dare spawn Mario Entriamo in cap Dai Te l'ho fatto La T Te l'ho fatto La T Te l'ho fatto C'è il medico Sulla C'è il medico Su reddito Ragazzi In scalette In scalette C'è lo shock Sotto One shot In scalette Non c'ho più Respondo Ragazzi Ti guardo Ti guardo a sinistra Ti guardo a sinistra Vai A sinistra A sinistra Attengo a sinistra A sinistra E' andato E' andato Eh Sponchiliamoli Se riusciamo Qua da me È il loro leader In primo Prima vedetta A sinistra Scusate A sinistra A sinistra Saffron A sinistra Dammi una controllata Leader 35 Tato Leader Tato 35 Tenete così Mario Se riesci Avanzi un pochino Fatto In cap Sono qui in mezzo La cap Non lo vedo Arriva il carro A sinistra Mi ha aiutato Mi ha aiutato Carro a sinistra Siamo in cap Gli ultimi due cerchi Ragazzi in cap Non facciamo la cazzata In cap In cap Mario Vieni in cap Mario Vieni in cap Non rischiamo Mario Vieni in cap In cap In cap Non morite In cap In cap L'ultimo cerchio Teniamolo Fermi così Fermi così Fermi così Non morite Fermi 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 Adesso Saffron Spara A quell'in cap Spara A quell'in cap No Non venire Spara A quell'in cap Col mortaio Tanto Lo sappiamo Dove si mettono Sempre a sinistra O a sinistra O a destra Comunque la zona È sempre quella Entriamo in cap Entriamo in cap Entriamo vicini Matt Bullizziamo Ricordati Bullizziamo Matt Sono tutti Sinistra Usciamo Matt Usciamo Mendico Down Leader One shot Leader One shot Leader One shot Nell'angolino C'è lo shock C'è lo shock Che ti arriva Matt Da centro Loro Sono tutti A sinistra Vi mette Un respawn Matt Ah no Niente No Seconda salita In fondo Seconda salita La t In cap In cap In cap In cap Ragazzi In cap In cap In cap In cap Raga Raga Viene Sul mio cadavere E mette Lo shock One shot Ragazzi In cap Dai Su Saffron Aspettaci Aspettaci Non da solo Non da solo Aspettaci Andiamo tutti Insieme in cap In cap Però Aspettaci Ehm Mane Mane Questa 37 Mane 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 Codown Shock down Ho fatto latti 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 Ma che hai persa per persa No prendiamole e svuotiamole Dai su prendiamole e svuotiamole Loro stanno tutti a sinistra Mario vai destra Flenca di a destra Mario Fatto Ressa Mette ce la fa ressare A sinistra Ha ressato latti Ha ressato Mette ce la lo spawn Pioniamoci tutti in cap Ragazzi a sinistra Siamo tutti Stiamo tutti attaccati a dare Ragazzi Davanti a me Shock Davanti a me Shock Medico a destra No a me Io non capisco come fanno No ma come fanno a fare così No ma nel senso Come fanno a vincere tutti questi gunfire Ti intendo C'è l'allucinante E io cosa avevo detto Lasciamo stare il tè anche Facciamo i fanti E te l'ho fatto l'attima volta Poi l'ha ressato Ma perché Quando siamo in capa Ci muoviamo Ognuno che guarda un lato diverso Dobbiamo cercare di Guardare tutti assieme Allo stesso punto Sì Non in quel senso Che guardiamo tutti Lo stesso angolo Ah Waiting Opponent Still full The progress Ok Il secondo In attacco Quando eravamo sotto Sopra Allo stesso punto Allo stesso punto Allo stesso punto Ingression No I I One I I I I I Figa, un gunfight non ci andava bene Un gun, una pushata Cazzo, vincevano sempre loro Contro gli existence siamo Vincevano sempre loro 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 Vincevano sempre Vincevano sempre eh per forza perchè a loro bastava tenere la cap eh ma perchè a loro bastava tenere la cap ragazzi cioè loro entravano in cap erano in quattro fanti e via tre quattro che cazzo che era a loro bastava oh no 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 si raga aggiungete aggiungete synergy art agli amici grazie 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 Che palle Contro GV abbiamo perso Contro GV Come i coglioni abbiamo perso Come i coglioni abbiamo perso Pusciavo troppo Non vincevo un Gunfighter Non lo so Non ho vinto un Gunfighter Ero sempre lì in mezzo ai nemici Paca si è perso C'è un po' Grazie a tutti. E' perso H. Grazie a tutti. 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 Due minuti e start al match. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I... Grazie a tutti. Oh, eccolo. Iniziamo. Grazie a tutti. Ok, iniziamo. Bene. Ha crashato qualcuno. No. Qualcuno è crashato. E... Che che manca? Che manca? Che bello. Che bello. Che bello. Funzione. Funzione. E... o... Oh, è che manca... Oh... Oh, è... Oh, eccolo. Grazie a tutti. 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 Ehm... Parti, 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 parti... Ragazzi, il parti c'è? Il parti... Ok, manca solo H... Ok... Allora... 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 Guarda nessuno... Guarda nessuno... I got tank... Allora... 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 Mario... 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 Niente... 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 Allora... 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 Let's go! Allora... dietro i leader e il medico sono andati il caro è arrivato a destra il blu door gli sento a sinistra gli sento a sinistra ragazzi gli sento a sinistra gli sento a sinistra leader down leader e il medico down ragazzi sarebbe bello se guardassi sul board della strada mentre sarei nello spawn magari a destra arriviamo a sinistra ragazzi arriviamo a sinistra ragazzi state avanti e non state dal Cristo la cap è qui non è di là ragazzi oltre a quel muro metteci ragazzi state in cap che se entrano siamo in due madonna ho capito ma cioè vieni in cap ma continui a guardare a destra e adesso arrivano due sono da solo che cazzo faccio c'è anche il caro a sinistra sono tutti qua sono tutti qua in mezzo ah c'è là in mezzo alla pianta in mezzo alla piazza ce n'è uno è in casa non so dove sono dentro da qualche parte non so dove sono dentro da qualche parte vieni Matt vieni Matt a sinistra arriva il caro da sinistra arriva il caro da sinistra in cap in cap in cap ragazzi però ragazzi in cap però ragazzi in cap però ragazzi sono due sono ride e a t nel buco del muro ragazzi sono ride e a t a t one shot pezzo di merda a t down no è zerato davanti a me è il loro leader Matt a destra c'hai sia il leader che la t sta attento a me interessa caro ragazzi Matt a sinistra è one shot è one shot in medico è one shot in medico sono tutti qua sono tutti qua sono tutti qua sono tutti qua a sinistra ragazzi è quello della sinistra ragazzi no leader a destra porta a destra leader porta a destra sta entrando a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi distruggono che ci pusha che sono davanti a noi e me li distruggono, non è che posso fare materiale all'infinito. No, il discorso è che bisogna tenerla cap e non bisogna star fuori, Cristo. Ma sono forti quanto vuoi, ma se noi nella seconda flag gliela lasciamo entrare che da sinistra sono arrivati in quattro senza che noi abbassimo fatto un cazzo. E noi eravamo tutti e tre a destra e stavo correndo in cap dallo spawn, ero da solo in cap. E loro entrano, cioè, capito. Sono forti quanto vuoi, ma se la strada ce l'hai spianata che entrano e che non c'è nessuno... E che cazzo... Ho capito, ma non vuol dire che stappi avanti allora gli aspetti larghi a destra. Stai vicino alla cap? Ho capito, ma quando sono entrato a sinistra io ve li ho chiamati, da mezz'ora che ve li chiamavo. Voi dove eravate? Eh, dopo siete arrivati... Dopo, quando sono arrivati il carro, eh, tutti quanti con la pompa magna... No, anche il terzo. Alte volte ve li ho chiamati a sinistra. C'ero io, ho arrivato un metro con mezz'ora. Eh, dopo che sono arrivati tutti quanti siamo al tank. Io da mezz'ora che ve li chiamavo... No, metti fini di qua, metti fini di qua, metti. Metti il trono di qua, non sta tirata da solo. Mettiamo il puscio a sinistra. Questa è la vita, stai qua. Però è il momento di entrare questo qui, ragazzi. Ce n'è uno in cap, ce n'è solo anche uno in cap. Ce n'è solo uno in cap. Spawnate, spawnate. Spawnate. Spawnate, ragazzi, spawnate. Spawnate, spawnate, spawnate. Spawnate. Spawnate, spawnate. Spawnate, spawnate. Spawnate, spawnate. Ah, non. Spawnate, spawnate. Spawnate. Spawnate, spawnate. 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 Sì ma tutti a sinistra ragazzi Possiamo pushare se volete Uno in cap Uno in cap Uno solo in cap Uno solo in cap ragazzi Uno solo in cap Era il mortaio davanti a me Mortaio davanti a me Metta attento sei qua sulla porta davanti a me Non mi ricordo adesso No sono morto Sono vivo sono vivo vai vieni Vabbè abbiamo il tank Riproviamo a fare una pushata col tank Aspetta 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 E raga Facciamo ancora Secondo me loro si aspettano ancora una pushata da sinistra Perché siamo entrati due volte sui due da lì Aspetta Andate tutti a sinistra Andate tutti a sinistra Andate tutti a sinistra Lo vedo lo vedo C'è la T c'è la T c'è la T c'è la T Cosa fa adesso Cosa fa adesso called Appena spawna Matt Io ho tenuto la pushata appena spawna Non è vero è morto pure Safra Niente aspettiamo No è qua è qua leader è qua Non è vero è in casa A sinistra Il mortaglio a sinistra ragazzi è appena entrato in cap A burgo della strada No 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 c'è la T C'è leader che non tira a banzare fuori Sta attento Gli ho fatto supporto Gli ho fatto supporto Matt se mi resti Sì ce l'ho Eh ma accadola Sì siamo due a terra Ok Eh ma che Spera non stiamo Spera non siamo tutti Vabbè Spera non aspetta un attimo Niente 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 Ce n'è uno che sta guardando Spera non si riusciva a far niente Spera non si riusciva a fare Allora 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 che devo andare adesso Più così Che vuole? Dov'è che è? I lost the game Conferma Minchia Allora 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 Ok sì Ho confermato Dovrebbe essere tutto a posto Ehm Niente ci sentiamo dopo Alle nove? Che ore sono? Vabbè 7.20 dai Allora Allora